buon pomeriggio a tutti benvenuti sono caterina carpitella responsabile formazione per info progetto action group e oggi come sempre vi accompagnerò in questo pomeriggio di formazione oggi un tema molto interessante e che ci riguarda in realtà tutti sia dal punto di vista professionale ma secondo me anche sul privato perché parliamo di comfort e qualità dell'aria degli ambienti indoor però ne parliamo tra pochissimo nel frattempo vi ricordo alcune raccomandazioni che in realtà poi sono sempre le stesse quindi la partecipazione al webinar di oggi consente l'acquisizione di due crediti formativi per architetti geometri ingegneri mi raccomando come sempre vi chiediamo di rimanere connessi in piattaforma per tutta la durata del webinar senza aprire pagino link esterni con lo stesso device che utilizzate per la formazione questo perché? Perché vi è proprio la rilevazione automatica della presenza da parte della piattaforma per cui è importante rimanere connessi tra l'altro non è necessario e non serve confermare la presenza all'interno della sezione domande e soprattutto mi raccomando non pubblicate i vostri dati personali all'interno di quella sezione per una questione di privacy utilizzate la sezione domande per tutte le domande, gli approfondimenti, chiaramenti, le curiosità e i chiarimenti anche che così vorrete condividere con i relatori che insomma tratteranno i temi oggi noi cercheremo di rispondere a tutti ovviamente al termine degli interventi anche poi nel momento di dibattito altra raccomandazione che vi faccio è di tenere sempre sotto mano e gli occhi puntati sulla sezione sondaggi e che si illuminerà con un pallino rosso vi faremo alcune domande per capire insomma qual è la vostra percezione sul tema e sicuramente poi vi faremo le domande relative al trattamento dei dati per ricevere i materiali dei contenuti che tratteremo oggi siamo a 448 partecipanti, siamo già oltre quindi direi che secondo me siamo quasi pronti a partire chiederei magari a Cecilia che ringrazio e che saluto perché oggi ci supporto in regia di mandare la sigla così poi partiamo subito eccoci bene bentornati mi sono dimenticata due dettagli tecnici ancora che per gli ingegneri si tratta di seminario e per quanto riguarda il caricamento dei crediti informativi sulle vostre piattaforme professionali dovete aspettare circa 60 giorni dallo svolgimento del webinar quindi abbiate un pochino di pazienza ma sicuramente vedrete poi i crediti informativi caricati dicevo, tema molto interessante quello di cui parleremo oggi comfort e qualità dell'area degli ambienti indoor in realtà abbiamo tra l'altro ormai dappertutto pubblicità e promozione rispetto a come si deve purificare l'aria a come insomma si deve trattare l'aria però probabilmente c'è tanto fumo e poi bisognerebbe capire effettivamente ciò che funziona e ciò che deve essere fatto per migliorare sia agli ambienti dal punto, insomma un po' per pensare alla salute di coloro che poi gli ambienti gli vivono ma pensando anche proprio all'edificio in sé quindi a quella che è proprio la salute dell'edificio ma oggi ne parleremo in realtà con tre esperti e quindi vi presento subito il primo è Roberto Perego, Vortice SPA tra l'altro ringraziamo anche Vortice perché ovviamente è il partner tecnico di oggi quindi l'azienda che ci permette di garantire la formazione gratuita per oggi buongiorno Roberto poi saluto e do il benvenuto al professore Alessandro Miani presidente della società italiana medicina ambientale che ho sentito parlare poco fa e sono certa che ci farà liberazioni importanti e molto interessanti buongiorno professore e benvenuto buongiorno a lei e agli ascoltatori e salutiamo e diamo il benvenuto anche ad Andrea Mantovani membro dell'associazione italiana di termografia e titolare di SINI di SRL che ovviamente si occupa anche di diagnostica immobiliare buongiorno Andrea buongiorno a tutti grazie, buongiorno allora se siete d'accordo io partirei subito e quindi chiederei a Roberto di stare con me sul palco e invece ad Andrea e Alessandro in realtà non di scendere dal palco ma di rimanere insomma in silenzio perché cominciamo con gli interventi cominciamo a trattare il tema di oggi e sicuramente ci sarà secondo me anche un buonissimo confronto tra i relatori che sono presenti quindi Roberto se sei d'accordo partiamo subito senz'altro proviamo eccoci qua condividiamo la presentazione spero si veda allora ancora no non si vede? no allora ripentiamo ritroviamo quindi condividi condividere lo schermo schermo intero clicco qui clicco lì mi è partito no si vedeva quasi poi è tornato indietro come mai? non lo so adesso riproviamo magari più lentamente Roberto perfetto condividi perfetto mettila solo a schermo intero benissimo ora si vede bene? perfetto si si vede benissimo con Roberto cominceremo a capire quelle che sono le strategie per il controllo degli inquinanti presenti nell'aria indoro ovviamente e parleremo di ventilazione meccanica controllata quindi ti lascio benissimo grazie buon pomeriggio a tutti da parte mia benvenuti a questo webinar in cui affronteremo appunto il tema del comfort e della qualità dell'aria negli ambienti confinati tema di assoluta attualità io sono Roberto Perego sono un dipendente vortice mi occupo in vortice di tutto quello che riguarda il settore tecnico commerciale quindi dal pre vendita al post vendita e oggi vi parlerò appunto di questa tecnologia che riguarda un po' l'aria perché l'aria è un po' il live motive di vortice perché giustamente uno può vivere settimane senza mangiare qualche giorno senza bere ma soltanto pochi minuti senza respirare quindi l'aria fa assolutamente parte della nostra vita ed è importantissima per la nostra vita soprattutto l'aria negli ambienti confinati perché appunto si parla sempre di più di qualità dell'aria interna il fatto che è legato alla presenza di inquinanti sia chimici che fisici che biologici che sono poco presenti oppure completamente assenti nell'aria esterna e questo è un problema appunto come dicevo di grandissima attualità perché noi passiamo tantissimo del nostro tempo all'interno di ambienti confinati fino al 90% della nostra vita la possiamo trascorrere negli ambienti chiusi addirittura al 30-40% nei luoghi di lavoro e in questi luoghi noi vogliamo stare bene ma per stare bene dobbiamo far sì che vengano rispettati alcuni parametri di tipo fisico fondamentalmente quindi una temperatura assolutamente di comfort dai 20 ai 25 gradi in dipendenza un po' da come siamo vestiti da che attività facciamo dalla sensibilità personale di ciascuno di noi un grado di umidità relativa centrato nell'intorno del 50% quindi non troppo limitato ma nemmeno eccessivo per poter avere appunto una sensazione di benessere una velocità dell'aria di spostamento dell'aria all'interno di questi locali il più limitato possibile nelle zone occupate si parla di 0,2 più o meno metri al secondo come velocità in modo tale da non avere quello che è il cosiddetto effetto spiffer o comunque la velocità dell'aria troppo fastidiosa per le persone che occupano questi locali un livello assolutamente di inquinamento acustico il più basso possibile ma soprattutto anche avere un buon livello di qualità dell'aria nei loghi chiuse appunto noi abbiamo il problema di controllare questo inquinamento presente nell'aria che respiriamo e che viviamo e questo inquinamento non proviene tante volte da fonti esterne ma molto spesso è causato da fonti interne quindi dalla nostra presenza dalla presenza degli animali che ci fanno compagnia dalle nostre abitudini come possono essere l'abitudine di fumare piuttosto che di cucinare ma anche da tutto quello che ci circonda quindi i vari tessuti i tappeti i mobili i muri che possono sprigionare delle sostanze dannose o comunque che vanno a inficiare la qualità dell'aria e da tutto quello che noi utilizziamo per tenere puliti questi ambienti quindi prodotti di consumo come per esempio i detersivi che possono contenere anch'essi delle sostanze inquinanti senza un adeguato controllo del ricambio dell'aria possono raggiungere questi inquinanti dei livelli di inquinamento superiori di molte volte alcune fonti dicono 5 volte alcune altre addirittura 9 volte livelli superiori rispetto a quelli che riscontriamo invece nell'aria esterna quali sono questi tipi di inquinanti poi ce ne parleranno i nostri relatori che seguiranno in maniera molto più dettagliata sono fondamentalmente di tre tipologie ci sono le sostanze chimiche come possono essere il monossidio di carbonio i COV gli antiparassitari gli ossidi di azoto e di zolfo il radon oppure particolato solido parliamo quindi di polveri derivati dalla combustione e quindi fumi o polveri sottili oppure possono essere anche agenti biologici quindi parliamo di batteri virus funghi bioerosol eccetera ma oltre a questi inquinanti classici come vengono descritti ne esiste anche un'altra tipologia che non è un vero e proprio inquinante ma è una sostanza di cui noi abbiamo assolutamente bisogno per la nostra vita parliamo dell'acqua e quindi della sua forma gassosa vale a dire dell'umidità umidità che può essere considerata a pieno regime come un inquinante perché? perché se presente in maniera eccessiva può causare all'uomo dei problemi perché quando abbiamo un tasso di umidità particolarmente elevato l'uomo ha difficoltà nel traspirare la traspirazione il metodo attraverso il quale noi regoliamo la nostra temperatura corporea viene un po' inibito quindi stiamo molto meglio tante volte in un ambiente caldo ma secco rispetto a un ambiente un pochino meno caldo ma con un tasso di umidità relativa molto elevato oltre che le persone però dà fastidio anche ai nostri edifici quindi quello che succede all'esterno è quello che vediamo in queste figure abbiamo degrado perché le murature esterne vengono intaccate dall'eccessiva umidità quindi gli intonaci possono saltare sicuramente questo non fa bene dal punto di vista dell'occhio ma soprattutto danno fastidio anche all'interno all'interno delle nostre abitazioni infatti l'acqua può provocare la formazione di muffe la presenza di condense il tutto si traduce in un degrado degli ambienti ma soprattutto nell'avere all'interno di questi ambienti dell'aria malsana bene per combattere quindi tutte queste tipologie di inquinanti noi abbiamo a disposizione diverse strategie una strategia potrebbe essere quella della depurazione quindi di utilizzare dei depuratori che sono delle macchine che continuano a filtrare dell'aria quindi si basano sul principio della filtrazione e riescono a controllare quella che è la concentrazione di particolato di inquinanti chimici inquinanti biologici certamente però non vanno a intaccare quello che è il contenuto di umidità e soprattutto non ricambiano l'aria interna possiamo sfruttare per combattere l'eccesso di umidità relativa i deumidificatori ma anche qui non andiamo a ricambiare l'aria uno dei metodi che hanno un maggior successo da questo punto di vista è sicuramente il metodo dell'aerazione o ventilazione e quindi il ricambio dell'aria interna con mezzi meccanici in questa maniera noi attraverso il sistema della diluizione riusciamo a eliminare l'umidità relativa e la concentrazione di inquinanti interni appunto andando ad espellere l'aria più inquinata e reintroducendo nell'ambiente aria meno inquinata noi viviamo fondamentalmente infatti in un involucro che è la nostra abitazione piuttosto che il nostro ufficio piuttosto che un ambiente chiuso nel quale noi possiamo anche transitare e questo ambiente dal punto di vista energetico deve essere assolutamente impermeabile per questo l'involucro non respira e non deve respirare per avere appunto il minor spreco energetico possibile in generale però la casa deve respirare per poter vivere per poter eliminare quello che sono gli eccessi di umidità e di inquinanti ci si pone quindi la domanda come fare a far respirare la casa l'ambiente circoscritto eccetera dobbiamo areare ma areare come? dobbiamo areare in maniera efficace e in maniera efficiente cosa significa? areare in maniera efficace significa fondamentalmente areare in modo tale da eliminare quelli che sono gli inquinanti areare in maniera efficiente significa invece areare sì però senza avere sprechi energetici garantendo comunque un ricambio corretto dell'aria interna per poter avere un'aerazione di tipo efficace noi possiamo ricorrere ai sistemi meccanici perché la semplice apertura delle finestre tante volte non garantisce il giusto ricambio dell'aria o comunque potrebbe essere un'abitudine che a volte non viene così tanto utilizzata per il semplice fatto che vedendo magari un clima particolarmente rigido all'esterno non fa venire voglia alla massaia di spancare le finestre e quindi un sistema che negli anni ha preso piede è quello appunto di una ventilazione di tipo meccanica utilizzando degli aspiratori fondamentalmente che vanno a pescare l'aria dagli ambienti interni la espellono all'esterno e attraverso delle griglie opportunamente dislocate sulla superficie esterna del nostro immobile si vanno a fare quelle che sono le emissioni in questa maniera tarando opportunamente la velocità dei ventilatori non riusciamo a garantire la giusta portata d'aria chiaramente però questo non è una maniera efficiente di poter ricambiare l'aria perché noi abbiamo a che fare con quelle che sono le perdite per la ventilazione che sono proporzionali alla differenza di temperatura tra l'aria che noi mettiamo e quella che estraiamo fondamentalmente e queste perdite per ventilazione se nelle vecchie costruzioni incidevano per una percentuale piccola rispetto a quelle che erano le perdite totali di energia dell'edificio e quindi fondamentalmente le perdite per trasmissione che sono attraverso quindi le superfici opache piuttosto che trasparenti dell'involucro quando appunto ha preso piede sempre di più l'efficientamento energetico quindi l'utilizzo di cappotti piuttosto che isolamenti nelle pareti tripli o doppi vetri per quanto riguarda le superfici vetrate questa dispersione attraverso l'involucro dell'edificio sono diminuite e proporzionalmente sono chiaramente aumentate le perdite per ventilazione quindi le perdite per ventilazione risultano essere relativamente più pesanti nelle case tanto più efficienti dal punto di vista energetico e quindi noi ci troviamo di fronte a un problema un problema che ha da risolvere quello che è l'ottimizzazione del comfort igienico quindi la diluizione degli inquinanti e dell'umidità relativa garantendo comunque il comfort ambientale e contrapposto a questo obiettivo noi abbiamo la difficoltà di avere a che fare con quelle che sono le dispersioni energetiche che appunto dipendono da quanta aria scambiamo e dalla differenza di temperatura che abbiamo tra l'aria espulsa e l'aria invece di immissione esiste però una soluzione per coniugare queste due esigenze contrapposte vale a dire l'utilizzo della ventilazione meccanica controllata con un recupero di calore ad altissima efficienza di cosa stiamo parlando stiamo parlando di macchine che fondamentalmente hanno il compito di ricambiare l'aria quindi sono delle macchine che estraggono l'aria dagli ambienti interni grazie a un ventilatore ma contemporaneamente immettono aria negli ambienti interni attraverso un altro ventilatore nella macchina esistono dei filtri quindi l'aria di emissione viene anche filtrata ma soprattutto il vero e proprio cuore della macchina è rappresentato da uno scambiatore di calore che ha il compito di trasferire l'energia dal flusso più caldo a quello più freddo quindi andare a prendere la parte buona dell'aria cattiva e reimmetterla all'interno dell'ambiente la parte buona dell'aria cattiva è il contenuto energetico qui vediamo un po' quello che è uno schema di funzionamento di uno scambiatore di calore quindi supponendo di essere in inverno l'aria calda esausta viene presa dal recuperatore di calore passando attraverso lo scambiatore cede a questo dell'energia e viene espulsa attraverso la stessa macchina con tutti gli inquinanti contemporaneamente la macchina va a pescare dell'aria fresca pulita dall'esterno quest'aria passa attraverso lo scambiatore si carica dell'energia accumulata dallo stesso e viene reimmessa nell'ambiente quanta energia riusciamo a dare di nuovo all'interno dell'ambiente viene definita attraverso un parametro che è il rendimento dell'efficienza termica qui vediamo una formula molto semplificata del rendimento dell'efficienza termica semplificata volutamente per rendere un po' l'idea di che cosa significa supponiamo di avere una temperatura una temperatura esterna in fase invernale di 0 gradi una temperatura interna di 20 gradi se avessimo una macchina come quelle che si facevano decine di anni fa con un rendimento dell'ordine del 50% l'aria che andiamo ad immettere sarebbe nell'ordine dei 10 gradi con le macchine invece più moderne che hanno ormai dei rendimenti nell'ordine dell'85 90% questa stessa temperatura dell'aria immessa è nell'ordine dei 18 17 gradi quindi molto vicina al valore della temperatura dell'aria dell'ambiente e quindi è chiaro che tanto più il rendimento è elevato tanto più noi abbiamo vantaggi anche dal punto di vista del mantenimento della temperatura standard di comfort all'interno degli ambienti con risparmi chiaramente dal punto di vista economico ed energetico dal punto di vista degli impianti delle tipologie degli impianti con i recuperatori di calore noi possiamo sbizzarrirci assolutamente perché possiamo realizzare degli impianti di tipo centralizzato autonomo quindi utilizzare una macchina al servizio di ogni singolo alloggio piuttosto che degli impianti di tipo centralizzato condominiale che vanno ad utilizzare invece una macchina al servizio di più alloggi contemporaneamente oppure andando in senso opposto possiamo utilizzare delle piccole macchine ciascuna al servizio di ogni singolo locale appartenente a un singolo alloggio come viene disegnato un impianto qui vediamo uno schema classico di un impianto centralizzato autonomo quindi con la macchina rappresentata da quel rettangolo arancione che va a scambiare l'aria con l'esterno attraverso una bocca di espulsione e una bocca di presa dell'aria esterna e attraverso un impianto aeraulico andiamo a prelevare l'aria inquinata dal bagno della cucina quindi tipicamente da quelli che sono i locali umidi quelli più sporchi tra virgolette quest'aria passando attraverso lo scambiatore di calore cede il proprio calore alla macchina stessa al pacco di scambio questo calore viene recuperato dall'aria di emissione che invece viene immessa nelle camere nei soggiorni quindi nei locali cosiddetti nobili chiaramente si crea un effetto scopa in quanto l'aria immessa nella camera nel soggiorno transitando attraverso i locali di disimpegno andrà poi fino alle bocchette di estrazione grossi sono i vantaggi di questo tipo di impianto perché trattiamo chiaramente tutto l'alloggio la macchina ha ormai raggiunto dei livelli di recupero in termini di efficienza energetica molto molto elevato parlavamo appunto dell'ordine dell'85-90% e avendo una macchina a servizio di ciascun alloggio ciascun inquilino può gestire il proprio impianto come desidera esistono due fattori su cui fare alcune considerazioni vale a dire la necessità di dover posizionare delle canalizzazioni per collegare la macchina alle bocchette di emissione di estrazione e chiaramente di avere uno spazio all'interno dell'alloggio per poter posizionare la macchina stessa questo secondo aspetto può essere risolto attraverso un impianto di tipo centralizzato condominiale in cui la macchina viene posizionata in un locale comune di un condominio supponiamo e quindi non è presente all'interno dell'alloggio chiaramente all'interno dell'alloggio invece esisteranno sempre bocchette canalizzazioni e quant'altro sono impianti che hanno avuto una buona stagione qualche anno fa in termini di successo tecnico e commerciale adesso si tende invece a tornare in più verso il sistema di tipo autonomo comunque ha sempre una validità entrambi questi due sistemi però dicevamo hanno il problema delle canalizzazioni per poter risolvere il problema delle canalizzazioni si può invece utilizzare una tipologia di impianto di tipo decentralizzato quindi andare a posizionare delle piccole macchine a cavallo delle pareti perimetrali che vanno a scambiare l'aria singolarmente in ciascun locale chiaramente nel bagno e nella cucina queste macchine con recupero di calore possono a volte essere sostituite da dei semplici estrattori quindi bisognerà chiaramente valutare volta per volta la validità o l'opportunità di poter utilizzare un tipo di macchina o un tipo invece di estrattore anziché di recuperatore di calore i vantaggi di questa tipologia di impianto sono chiaramente il fatto di non dover utilizzare delle canalizzazioni all'interno del singolo alloggio e quindi non richiedono delle opere murarie particolarmente invasive questo è un impianto che può essere applicato anche a singolo locale e quindi molto spesso quando noi abbiamo dei problemi di muffa o di condensa concentrato magari soltanto in una camera o piuttosto in un locale particolare noi possiamo andare a intervenire solo esclusivamente in quel locale anziché in tutto l'ambiente l'efficienza dal punto di vista energetico di queste macchine è leggermente più bassa anche se sono stati fatti passi da gigante anche per l'efficienza di queste macchine quindi si riesce tranquillamente ad arrivare a superare il 70-75% di recupero di calore c'è la problematica eventualmente se mal posizionate di un ricambio dell'aria non così efficiente come avviene nel caso della ventilazione meccanica controllata con macchine di tipo centralizzato però l'impianto potrebbe risultare molto più semplice da collocare ma soprattutto utilizzabile anche in fase di ristrutturazione abbastanza leggera quindi vado a rifare il cappotto vado a rifare gli infissi insorgono come classicamente insorgono problematiche legate alla formazione di muffa e alla formazione di condense perché non c'è più quel ricambio che veniva garantito dallo spiffero del vecchio infisso e di conseguenza con questo tipo di macchine noi andiamo a risolvere questa problematica parlavamo delle canalizzazioni le canalizzazioni possono essere posate seguendo due strategie fondamentalmente quindi posandole a contosoffitto facendo delle dorsali con degli stacchetti come vediamo nell'immagine di sinistra oppure posarli sotto pavimento con dei canali appositi che possano resistere le sollicitazioni dovute al carico del massetto e del pavimento quando invece si vanno a posare appunto nascoste nelle opere murarie come nell'immagine di destra per vedere un pochino più nel dettaglio vediamo due casi che abbiamo realizzato di recente tutte e due si riferiscono a delle palazzine più o meno simili questa palazzina è sita Pinerolo in cui la strategia scelta è stata quella di utilizzare una distribuzione a contosoffitto quindi le macchine su scelta del progettista sono state installate sul terrazzo chiaramente non è una posizione particolarmente ideale in quanto queste sono macchine che per meglio lavorare devono stare in ambienti perlomeno non esposti all'esterno quindi coperti chiusi possibilmente anche riscaldati a questo in questo caso particolare si è superito utilizzando dei sistemi di isolamento quindi creando queste nicchie isolate di materiale molto spesso per poter garantire delle temperature all'interno della macchina consome a funzionare correttamente inoltre in questo caso si è inserito anche una batteria idronica a valle della macchina stessa per poter fare un post trattamento di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo come distribuzione si sono utilizzate invece ripeto delle canalizzazioni con degli stacchi a T che si affacciano sulle varie camere canalizzazioni che sono state isolate opportunamente per la presenza appunto di una batteria che lavorando anche in freddo in fase estiva poteva creare senza l'isolamento della condensa sulla superficie esterna della canalizzazione stessa viceversa una scelta diversa è stata fatta in questa palazzina a Lissone in cui la distribuzione è stata pensata utilizzando delle canalizzazioni che sono quei tubi verdi che vedete nell'immagine più a destra posizionate a parete o a pavimento in questa maniera dalla macchina e a seconda della tipologia dell'appartamento è stata scelta una macchina da contosoffitto piuttosto che da parete le canalizzazioni vengono raccordate attraverso dei plenum distributori da cui dipartono tanti piccoli tubi che raggiungono poi dopo le bocchette nell'immagine di destra voi vedete un'applicazione in fase di posa chiaramente poi dopo tutte quelle canalizzazioni verranno nascoste dai pannelli sandwich con cui erano composte le pareti piuttosto che della gettata sul pavimento quindi un impianto completamente scomparsa in questo caso non si hanno neanche riduzioni di altezze perché non c'è bisogno di dover fare chiaramente controsoffitti parlando invece di impianti per quanto riguarda il decentralizzato qui abbiamo un esempio di come siamo intervenuti non in fase di costruzione ma in fase di impianto di appartamento già vissuto a Salò in un appartamento sito in una palazzina avevano grossissimi problemi di muffe qui vediamo delle immagini che rappresentano un po' tutti i locali presenti in questo tipo di appartamento con formazioni fungine molto molto spinte vediamo in alto a sinistra la cucina piuttosto che la camera da letto il soggiorno e quant'altro c'è una presenza di umidità relativa molto molto elevata che con la semplice apertura delle finestre per pochi minuti al giorno quanto potevano permettersi gli occupanti di questa abitazione non riusciva ad essere smaltita ebbene abbiamo risolto il problema installando in tutti i locali delle macchine monostanza quindi dei recuperatori di calore a doppio flusso quindi flusso alternato con ricambio e recupero di calore in ogni locale chiaramente tarando le velocità di queste macchine in funzione della volumetria e una volta installate queste macchine macchine che sono state installate in presenza degli occupanti quindi senza che gli occupanti dovessero abbandonare l'alloggio abbiamo ottenuto dei risultati molto molto notevoli nel senso che dopo alcune settimane la situazione è molto migliorata non ci sono state più proliferazioni di muffe e soprattutto si è eliminata anche quella che è la condensa quindi si è potuto poi successivamente intervenire con le pitture per poter ripristinare anche dal punto di vista estetico quelle che erano le formazioni che avevano causato dei disagi appunto all'interno dell'abitazione bene io ho terminato questa mia presentazione e volevo lasciarvi con un'ultima considerazione che riguarda un po' quelli che sono i vantaggi diciamo di questa tecnologia la tecnologia della ventilazione meccanica controllata è una tecnologia che consente il ricambio dell'aria e quindi di conseguenza il controllo del livello di inquinianza e dell'umidità abbiamo la possibilità di filtrare l'aria in immissione e abbiamo anche la possibilità di avere un risparmio energetico grazie al recupero di energia inoltre questa tecnologia può rientrare in quelle che sono le agevolazioni fiscali come vi diranno i relatori che succederanno io per il momento vi ringrazio e resto a vostra disposizione lasciandovi quelli che sono i nostri recapiti quindi l'indirizzo del nostro sito dal quale potete scaricare tutta la documentazione relativa alla nostra produzione in particolare quella relativa alla ventilazione meccanica controllata e gli indirizzi di prevendita e di post vendita ai quali potete rivolgervi per qualsiasi domanda sia in fase di preventivazione che anche in fase di installazione per un aiuto concreto vi ringrazio grazie mille Roberto per la spiegazione molto esaustiva se posso ti ripropongo e condivido due domande fatte dai partecipanti certo allora Fabio mi chiede nella soluzione a sottopavimento delle tubazioni quanto spessore occorre allora dipende un po' da che tipo di canalizzazioni utilizziamo noi abbiamo tipicamente le canalizzazioni possono essere di diverso diametro la più utilizzata è un diametro 75 esterno ma c'è la possibilità di utilizzare anche delle canalizzazioni fino a un 90 mm di diametro esterno oppure anche delle canalizzazioni piatte quando uno ha un particolare bisogno di mantenere quanto più basso possibile l'altezza delle canalizzazioni oppure c'è la possibilità anche che queste canalizzazioni si possano sovrapporre l'una all'altra e quindi mantenere quanto più basso possibile l'altezza di queste canalizzazioni esistono delle canalizzazioni anche ovalizzate che hanno degli spessori limitati nell'ordine dei 5-6 cm come altezza ciascuna grazie e poi chiedono ancora nella soluzione monostanza occorre predisporre anche la linea elettrica una linea elettrica sì assolutamente è l'unica è l'unica proporzione da portare quindi alla macchina va collegata soltanto l'elettricità non c'è bisogno invece di fare una un collegamento per lo scarico della condensa perché questo avviene attraverso la macchina esterna verso l'esterno qualora si dovesse formare della condensa ma il principio di funzionamento è tale per cui la formazione di condensa all'interno di queste macchine monostanza difficilmente viene raggiunta bene poi c'è una domanda relativa alle agevolazioni fiscali ma so che ne parlerà Andrea dopo quindi secondo me possiamo magari insomma affrontarla più tardi o magari nel dibattito finale ce ne sono ancora per te Pietro dice qual è il comportamento dell'impianto in reazione al rumore della macchina della circolazione forzata del fluido in inquinamento acustico le macchine è chiaro devono essere isolate da due punti di vista uno è relativamente all'emissione per il raggiamento quindi qualora si vada a mettere la macchina tipicamente in un controsoffitto parlando di un appartamento di piccola metratura occorre che il controsoffitto o comunque nell'intorno della macchina ci vengano posizionati dei materassini fonoassorbenti per evitare appunto l'irraggiamento acustico ma soprattutto occorre che perlomeno nel primo tratto tra la macchina e il pleno di distribuzione o comunque nel primo tratto di canalizzazione vengano utilizzati dei canali acustici vengono cosiddetti quindi che fungano un po' da silenziatore non solo per evitare poi anche la telefonia quindi quei disturbi che possono crearsi tra un locale e l'altro è bene sempre avere delle precauzioni tipo isolare internamente i plenum isolare le bocchette dal punto di vista acustico ci sono diversi accorgimenti che devono essere però studiati caso per caso non possono non si può generica caso per caso però le questioni possono essere benissimo risolte allora Roberto ci sono anche tante altre domande però in realtà il tempo in questo momento non è tantissimo quindi io te ne faccio un'altra che è l'ultima che riguarda la manutenzione cioè diciamo qual è la manutenzione necessaria per un impianto di ventilazione di carica controllata allora quella standard è fondamentalmente la sostituzione dei filtri dei filtri possono essere accessibili innanzitutto quindi spesso e volentieri vengono messe alle macchine all'interno di un controsoffitto chiudendolo completamente senza lasciare delle botole di ispezione e quindi non si ha neanche la possibilità di poter accedere alla macchina neppure per cambiare il filtro figuriamoci in caso di guasto che cosa può succedere quindi filtri sicuramente filtri che devono essere cambiati mediamente ogni sei mesi massimo un anno tanto per per darci un'idea e a lungo termine e anche comunque un'igienizzazione una pulizia delle canalizzazioni è assurda di data allora io ti chiederei eventualmente di continuare magari a rispondere alle altre domande durante i prossimi interventi direttamente in forma scritta nella chat e poi magari ci lasciamo eventualmente un paio di domande poi che a cui tu rispondi in forma scritta da condividere anche con con la platea così almeno andiamo avanti perché siamo un po' in ritardo però insomma hanno tante domande quindi magari puoi rispondere direttamente in chat volentieri grazie mille Roberto ci vediamo dopo adesso procediamo con il professor Miani eccolo che vedo ecco bene benvenuto adesso cerchiamo di capire quali sono i principali inquinanti indoor di origine chimico-fisica anche di origine biologica cercheremo di capire che cosa e quali sono gli strumenti chiaramente per gestire questo problema della insomma della qualità dell'aria negli ambienti quindi professore so che lei non inizia subito con la presentazione giusto? esatto preferirei dare un intro e inquadrare un po' il tema anche a livello sanitario con qualche dato poi passiamo alla presentazione ma magari continuo ad aggiungere dati e informazioni al di là di quello che uno trova già scritto sulla presentazione bene grazie allora io la lascio intervenire tra l'altro siamo arrivati a 574 partecipanti quindi tantissimi persone connesse in piattaforma ricordatevi sempre la sezione sondaggi perché ovviamente avremo insomma dei sondaggi pubblicati che vi chiederemo di rispondere prego professore perfetto allora innanzitutto io sono Alessandro Miani sono professore di prevenzione ambientale alla statale di Milano e sono presidente della società italiana di medicina ambientale non c'è perché medicina con la qualità dell'aria perché come vedrete tra poco ci sono moltissime interazioni tra ciò che respiriamo e la nostra salute la medicina ambientale è una branca della medicina ed è fatta da un approccio assolutamente multidisciplinare tant'è che con noi lavorano anche moltissimi ingegneri moltissimi architetti per restare sul pubblico che oggi ci ascolta ma anche economisti giuristi medici biologi geologi e via dicendo attra a far sì che ciò che ci circonda e ciò che ci permatta e quindi anche ciò che mangiamo beviamo e respiriamo soprattutto non diventi un fattore determinante di malattia infortunio e morte prematura per l'organizzazione mondiale della sanità il 25% di tutte le patologie di qualunque malattie di qualunque causa di morte nel mondo è dovuta a fattori ambientali ebbene noi ci concentriamo su quelli che possiamo chiamare fattori ambientali modificabili ovvero sia che grazie al nostro intervento alla nostra cura alla nostra attenzione o anche all'introduzione come in questo caso di tecnologie possiamo ridurre e mitigare il rischio dei cosiddetti determinanti ambientali e sociali della salute di cui l'inquinamento atmosferico è la più importante emergenza a livello planetario considerate che nel mondo ogni anno stando agli ultimi rapporti muoiono prematuramente 7 milioni di persone proprio dovuti all'inquinamento atmosferico in Europa circa poco più di 500 mila e in Italia 90 mila sono i decessi prematuri all'anno stando all'ultimo rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente riferito al nostro paese l'Italia è peraltro la nazione in Europa in cui ci sono più decessi attribuibili all'inquinamento atmosferico quando parliamo di atmosfera ovviamente ci riferiamo all'atmosfera outdoor ma anche l'aria che sta all'interno dei nostri luoghi di vita e di lavoro o anche di tempo libero è chiamata anch'essa atmosfera ebbene nel momento in cui come diceva prima l'ingegnere Perego noi sappiamo che passiamo trascorriamo tra il 70 e il 90% della nostra vita all'interno di ambienti confinati e in questi ambienti la qualità dell'aria è mediamente 5 volte peggiore rispetto alla qualità dell'aria esterna ecco che questo diventa un problema molto importante e sì per prima diciamo in Italia nel 2016 è uscita con decalculo ossia delle linee guida su come poter ridurre l'impatto che questi inquinanti possono avere sulla nostra salute e qui aggiungo che all'interno delle case ma anche degli uffici delle aziende delle stesse patologie di cui soffriamo noi umani soffrono anche i nostri compagni di vita i pet cani gatti conigli e bianice quindi quando parliamo di qualità dell'aria endor è riferita alla razza umana ma anche a molti animali che vivono con noi in questi ambienti soprattutto quelli domestici ma andiamo a vedere quelli che sono gli ambienti confinati gli ambienti confinati sono la nostra casa sono il nostro ufficio sono la nostra azienda sono i supermercati le palestre ma possono essere anche mezzi di trasporto come qualunque altro ambiente che ha diciamo un confine delimitato entro il quale noi stiamo viviamo e lavoriamo c'è un altro ambiente possiamo dire confinato e questo ve lo anticipo perché può rendere ancora di più conto di quanto è importante e urgente soprattutto in alcune regioni italiane più di altre in tutte importanti ma in alcune è sentitamente importante la pianura padana nei mesi invernali lo possiamo considerare un ambiente confinato quindi non solo tutto ciò che di costruito sta in pianura padana ma proprio l'intera pianura padana perché causa una serie di fattori orogeografici e anche di eccesso di umidità temperature di un certo tipo ma soprattutto una stabilità atmosferica importante fa diventare tutta la pianura padana come se fosse una sorta di unico stanzone con un soffitto alto alcune decine di metri circa 50 metri e tutto ciò che viene prodotto a livello di inquinamento dentro questo grande stanzone lì resta anche per alcuni mesi e se questo resta nell'ambiente outdoor possiamo immaginare quanto maggiore sia la concentrazione di questi inquinanti all'interno degli ambienti indoor dove appunto dicevo prima l'inquinamento mediamente è 5 volte superiore perché è 5 volte superiore è superiore perché buona parte degli inquinanti entrano ossia pervadono gli ambienti indoor proveniendo dall'esterno qui si accumulano e quindi ne aumentano ovviamente la concentrazione e contemporaneamente ci sono una serie di inquinanti che invece sono tipici degli ambienti confinati e che produciamo noi con la nostra presenza e con le attività umane in parte e in parte invece vengono da redi da materiali di finitura della casa da vernici collanti solventi e via dicendo io chiederei all'organizzazione di fare partire le slide che così seguo una linea ecco magari questa la mando avanti ok questa l'abbiamo già detta ovviamente lo studio della qualità dell'aria indoor riveste un'importanza cruciale perché tra poco vedremo anche qual è l'impatto che questa genera sulla salute umana principalmente ma non solo anche animale c'è un altro tema che riguarda riguarda in maniera importante in Italia il tema dell'indoor e acquoluto ossia della qualità dell'aria indoor mentre per la qualità dell'aria esterna ci sono delle leggi che attraverso dei parametri e delle centraline di controllo che tutti conosciamo sono le centraline prevalentemente dell'arpa ma non solo ci sono comunque dei parametri di legge entro i quali l'aria è considerata respirabile o ancora salupre e oltre i quali invece lo vediamo abitualmente nei nostri comuni e le amministrazioni fanno il blocco del traffico piuttosto che abbassano il riscaldamento nei mesi invernali mentre per quanto riguarda l'aria indoor non c'è una regolamentazione complessiva che definisca dei parametri di più o meno maggiore o minore salubrità di questi ambienti dal punto di vista dell'aria noi come società italiana di medicina ambientale abbiamo su base scientifica predisposto una proposta di legge già tre anni fa vi dico la verità l'abbiamo sottoposta a tutti i partiti politici dell'arco costituzionale ma ad oggi non è uscita dai cassetti ci auguriamo che nei prossimi anni questo possa avvenire anche per evitare che sul mercato proprio mercato B2B o B2C ci sia un sovraffollamento di dispositivi che in assenza di regole fanno diventare il mercato un mercato selvaggio in cui molti di questi dispositivi purtroppo non funzionano o comunque non sono utili a ridurre e a mitigare il rischio che l'inquinamento atmosferico indoor ha sulla salute umana in principale come forma principale quali sono gli inquinanti gli inquinanti l'ha già anticipato l'ingegner di origine chimica fisica e biologica e al primo posto ci staranno i due carboni che a noi respiriamo e espirando emettiamo CO2 monossido di carbonio biossido di azoto non solo ossidi di azoto in generale che vengono dall'esterno e che sono prevalentemente considerati traccianti e vengono utilizzati anche a livello scientifico come traccianti del traffico veicolare di ossido di zolfo composti organici volatili questi sono prevalentemente generati all'interno con le attività di cucina piuttosto che con le attività di igiene e pulizia della casa l'utilizzo di detersivi quindi di sostanze chimiche che poi li sprigionano alcuni inquinanti possono essere considerati primari ovvero sia che significa che sono direttamente essi stessi già degli inquinanti potenzialmente pericolosi altri invece si formano in atmosfera indoor come avviene anche per l'ambiente esterno grazie a particolari condizioni magari di umilità o di scarsa ventilazione o di temperatura e e alla presenza contemporanea di più sostanze chimiche che vanno a formare degli inquinanti appunto che si chiamano secondari e che in molti casi almeno in talunni casi sono anch'essi altamente tossici per la nostra salute altro inquinante importante è la formaldeide poi c'è il benzene che viene prevalentemente dall'esterno gli idrocarburi ciclici aromatici quando noi abbiamo un camino soprattutto se aperto piuttosto che una stufa pellet produciamo molti ipa l'ozono il radon che vedete in grassetto come anche gli iftalati perché su questo vorrei fare rapidamente un focus poi ovviamente il tm particolare atmosferico noi conosciamo il tm10 il tm2.5 ma il tm indica la dimensione aria dispersa di queste sostanze che possono essere in forma solida liquida o mista e quindi non è che va a identificare di che cosa stiamo parlando ma solo della sua dimensione quindi possiamo arrivare anche allo 0,00 e via dicendo in questo caso si parla di polveri fini o ultrafini o nanopolveri ovviamente adesso qui io sto leggendo con voi ma quando si parla di fumo di tabacco va inserito anche se nei luoghi almeno quelli aperti al pubblico sappiamo che è severamente vietato ma lo stesso vale anche per le sigarette burning perché anche queste comunque producono delle sostanze che si liberano nell'atmosfera e possono essere tossiche se inalate o disturbanti se inalate da altre persone presenti in quell'ambiente pesticidi amianto purtroppo l'Italia nel 1990 è uscita la legge che bloccava la produzione e l'utilizzo dell'amianto quindi soprattutto nel formato Ethernet per le costruzioni e per anche in altri settori ma nonostante questo nonostante un piano nazionale amianto che è stato diciamo rinnovato e rinforzato l'anno scorso dall'ex oramai ex ministro dell'ambiente il generale Costa l'Italia ha ancora numeri molto importanti di presenza di amianto soprattutto sotto forma di Ethernet e ci sono moltissimi edifici soprattutto scolastici si calcola oltre 350.000 bambini che oggi in Italia studiano in scuole in cui è presente ancora l'amianto quindi siamo in attesa di bonifiche e speriamo che anche questo possa pian pianino raggiungere una parola fine abbiamo in Italia solo per l'amianto 6.000 decessi prematuri all'anno attribuibili appunto a questa Fibra Killer Ftalati e Radon perché li ho sottolineati dovrei sottolineare anche la CO2 la nitride carbonica ma vi do una qualche informazione partiamo dal Radon il Radon è un gas naturale è un gas chiedo scusa è un gas radiattivo in colore e in odore che emerge naturalmente dal terreno e che ovviamente in ambiente esterno entra in atmosfera e viene diluito mentre all'interno degli edifici soprattutto quegli edifici di antica fattura in cui magari mancano le fondamenta o le fondamenta sono antiche e stesso vale anche per diciamo tutto quello che riguarda la parte infrastrutturale io non sono un ingegnere un architetto quindi mi scuserete se non uso dei termi tecnici su questo può anche risalire dal piano terra e arrivare anche a piani più elevati è un gas radiattivo significa che decade come tutti i materiali radiattivi e se decade quando all'interno del nostro organismo può andare a modificare il DNA delle cellule che sono vicine alla presenza di questo gas e quindi può generare il cancro ecco che questo è un gas pericoloso in casa due volte di più o comunque negli ambienti chiusi perché si lega molto facilmente alle polveri sottili e legandosi alle polveri ovviamente noi respiriamo le polveri che possono a seconda della loro dimensione fermarsi nei bronchi alti piuttosto che nei bronchioli fino ad arrivare agli alveoli polmonari e dagli alveoli polmonari passare anche la barriera ematica ma poi questo lo vediamo tra poco e quindi nel momento in cui abbiamo un gas che si è legato a una sostanza liquida o solida o entrambe che è un PM quindi una polvere fine ha il tempo di decadere di liberare delle radiazioni le più note si chiamano radiazioni alfa e quindi di interagire con il nostro organismo considerate che sono attribuibili in Italia 3200 3600 a seconda diciamo tra i dati da regione a regione decessi prematuri all'anno dovuti proprio al cancro del polmone il radon oggi è la seconda causa di tumori al polmone dopo il fumo di sigaretta e sul totale dei tumori al polmone registrati in Italia rappresenta il 10% del totale quindi anche questo è un tema importante quando si parla di ambienti confinati perché l'Italia è ricca di radon e quasi tutte le regioni italiane sono interessate a questo problema quindi anche qui ventilare il ricambio dell'aria e la ventilazione sono temi importanti per diluire la concentrazione di questo gas altro tema di cui magari si parla meno sono gli phtalati cosa sono gli phtalati gli phtalati sono dei plastificanti fondamentalmente sono delle sostanze chimiche che vengono utilizzate per i processi di produzione della plastica per renderla più morbida più malleabile più flessibile questi phtalati ovviamente noi siamo circondati da plastica anche da pensare da rivestimenti piuttosto che mobili arrivi giocattoli e altri e altri prodotti che stanno nelle nostre case nei nostri uffici nelle nostre palestre per esempio o nelle nostre scuole ebbene questi phtalati con l'usura si possono liberare e particelle estremamente piccole restare galleggiando nell'aria indora noi le possiamo respirare e qui è un problema ancora più importante rispetto a quello del radono vi do qualche dato è un problema più recente il fatto di essere andati a vedere se c'erano degli phtalati quindi sono studi più recenti però oramai sono diventati di norma gli phtalati causano dei problemi sono dei distruttori endocrini ovvero sia interferiscono col nostro sistema endocrino creando dei problemi in Italia oggi questi sono gli ultimi dati fhtalati respirati e fhtalati diciamo bevuti o mangiati perché li troviamo anche di packaging plastici che contengono non so le monodose di cibo piuttosto che nel pet con cui in cui è contenuta l'acqua piuttosto che il latte piuttosto che altre bevande generano oggi in Italia sui nuovi nati quindi parliamo interessa soprattutto i bambini e l'età adolescenziale un bambino su 77 in Italia nasce con un ritardo più o meno grave del neurosviluppo e uno su 55 con un disturbo dello spettro autistico sono numeri impressionanti considerato che abbiamo anche una natalità in Italia piuttosto ridotta che ci deve obbligare a prendere delle misure per contrastare questi rischi e questi numeri anche perché come ben sapete chi soffre di disturbi dello spettro autistico soprattutto nelle forme medie e più gravi è persona che crescendo non potrà più nemmeno partecipare a una patologia da cui non si può guarire e con difficoltà potrà essere una persona attiva nel mondo del lavoro quindi questi temi interessano come dicevo prima tanti aspetti anche quelli economici perché ci sono dei costi sociali molto importanti dei costi sanitari molto importanti ma anche una visione complessiva del nostro Stato che deve non solo prendersi cura delle persone ma anche far sì che queste possano partecipare attivamente alla propria vita e al benessere complessivo del paese producendo del PIN io chiedo scusa sono abituato come dicevo a parlare a braccio quindi le slide le seguo la fatica vediamo qui abbiamo parlato di questo c'è l'altro tema sulla lide carbonica tornerò tra non molto siamo in un periodo pandemico quindi un altro tema molto importante è quello dei contaminanti di origine biologica batteri virus poli dispore feci di acari che poi sono prevalentemente assieme a composti allergenici quelli che ci danno dei problemi più frequenti residui biologici e io mi concentrerei se siete d'accordo sui virus visto che stiamo vivendo un momento pandemico ma non solo un momento pandemico purtroppo lo scopriremo o lo scoprirete sempre di più nei prossimi mesi nei prossimi anni stiamo vivendo un'epoca pandemica perché la pandemia oggi in corso non è destinata diciamo a finire in tempi brevi ma soprattutto diciamo a livello scientifico a livello di sensibilità scientifica internazionale si ritiene che una prossima pandemia potrebbe essere dietro l'angolo e anche per questo motivo è estremamente importante far sì di dotare subito immediatamente tutti gli ambienti confinati di quelle buone pratiche e di quelle buone tecnologie che siano in grado di mitigare il rischio di far sì di non dover andare in un nuovo eventuale lockdown di blocco del paese perché questo avrebbe un costo in termini economici che l'Italia ma l'Europa e l'intero mondo non potrebbero permettersi e quindi per esempio nel caso dei virus volendo fare un passaggio diretto sul tema della ventilazione meccanica controllata come Sima abbiamo fatto presento degli studi su questo alcuni già pubblicati e questi studi che cosa ci hanno detto in sintesi che se noi immettiamo dell'aria all'interno di un ambiente confinato ovviamente con una quantità calibrata rispetto a quell'ambiente e contemporaneamente estrariamo dell'aria viziata in quell'ambiente c'è uno o più soggetti che sono infetti e che quindi magari tossiscono o starnutiscono liberando nell'ambiente queste goccioline questo aerosol di goccioline che se siamo infetti può contenere il virus ebbene se noi utilizziamo via MC in questi ambienti possiamo ridurre il rischio di infettarci del 99,6% ma restando sempre sui virus abbiamo fatto anche un altro studio nel contorno a bomba sulla anidride carbonica lo studio è questo abbiamo deciso di individuare nella CO2 una tracciante perché quando noi respiriamo ossia espiriamo liberiamo l'anidride carbonica un processo nostro metabolico ma contemporaneamente liberiamo anche questo aerosol di goccioline che abbiamo imparato negli ultimi due anni si chiamano droplet bene le goccioline più fini di questo droplet sono invisibili ad occhio nudo le più grandi cadono a una breve distanza da noi entro i due metri ecco perché si parla di distanza di sicurezza in Italia si parla di un metro ma infatti in tutto il mondo e anche i nostri studi indicano i due metri come distanza minima di sicurezza ma le goccioline più fini anche adesso mentre vi sto parlando arrivano ben oltre il microfono e arrivano fino a 6-8 metri di distanza da me in questi 6-8 metri si dispergono nell'ambiente se c'è una turbolenza nell'aria un ventilatore piuttosto che un climatizzatore come c'è in questo ufficio in cui sono adesso e se non c'è il cambio d'aria queste possono arrivare a una concentrazione tale da diventare pericolose per la salute delle persone che abitano quell'ambiente ebbene abbiamo individuato nella CO2 un tracciante che con una ricerca scientifica e dei calcoli che adesso riedito per brevità abbiamo visto che sotto i 700 ppm o sia parti per milione di anidride carbonica è possibile ridurre il rischio di respirare aria espirata da altre persone non importa che siano 5 o 500 ma altre persone presenti in quello stesso ambiente si può ridurre il rischio fino a molto sotto l'uno per cento quindi minimizzarlo al punto da avere un rischio simile o assimilabile a quello che abbiamo nel respirare all'esterno seduti a un tavolo o tra tavoli vicini a un ristorante aria espirata da persone che ci sono molto vicine ebbene questo nostro protocollo che è condiviso con la comunità scientifica a livello internazionale in Italia purtroppo come molte altre cose non è ancora in vigore mentre è già in vigore in molti stati degli Stati Uniti in Giappone in Spagna in Germania insomma in diverse nazioni nel mondo perché comunque l'attività nostra è quella di fare ricerca scientifica di formare ma poi anche di condividere le nostre conoscenze con stati e governi abbiamo infatti una rete della scienza internazionale e sedi non solo in Italia ma anche in Europa negli Stati Uniti arriverei a questo punto a parlarvi di che cosa si può fare per tutto questo le patologie collegate ai problemi dell'inquinamento atmosferico outdoor indoor la stessa cosa nell'indoor è più pericoloso semplicemente la prima causa di morte è l'infarto o lintus la seconda causa di morte è il tumore al polmone abbiamo detto 90.000 decensi all'anno prematuri solo in Italia legati all'aria inquinata ma oltre questo ci sono un'infinità di patologie che vanno dalle più semplici come irritazioni della pelle o delle bruttose esposte piuttosto che asma piuttosto che allergie piuttosto che broncopneumopatia cronica ostruttiva BTCO in sigla ma ci sono anche in grande crescita dovuti anche questi all'iftalati sterilità ebbene cosa possiamo fare e dove noi cittadini o comunque professionisti possiamo agire noi possiamo agire dove viviamo dove lavoriamo dove passiamo il nostro tempo libero e dove peraltro come dicevo prima passiamo la gran parte della nostra vita tra il 70 e il 90% della nostra vita e qui possiamo fare solo due cose possiamo usare il buon senso cercare di inquinare il meno possibile quindi usare meno chimica possibile all'interno dei nostri ambienti di vita e di lavoro ma non è sufficiente possiamo arieggiare quindi apriamo noi le finestre in maniera naturale creiamo una ventilazione naturale spesso e volentieri non è sufficiente meglio di nulla è consigliabile ma non è sufficiente oggi possiamo fare due cose possiamo monitorare esistono dei dispositivi professionali o trend diciamo così smart l'importante è che siano validati dalla scienza ossia siano stati messi in parallelo con strumentazione professionale e calibrata a livello scientifico e che ci dica su uno o più parametri come stanno le cose all'interno nel nostro ambiente quindi se bisogna intervenire in qualche modo e come lo diceva sempre l'ingegnere Perego all'inizio del suo intervento i modi sono alla fine semplici sono pochi purtroppo ad oggi ce ne sono alcuni che funzionano meglio altri che funzionano meglio altri che funzionano poco professore proprio un paio di minuti perché stiamo chiedendo chiedo scusa monitoraggio filtrazione dell'aria noi diciamo come società scientifica che il meglio che oggi la tecnologia offre e per garantire la salubrità dell'ambiente e la nostra salute è quello della ventilazione meccanica controllata che sia centralizzata che sia decentralizzata retrofit è l'unico sistema che consente oggi di diluire tutti gli inquinanti presenti in un certo ambiente diluirli a tal punto da rendere insignificante rispetto alla nostra salute l'impatto che può avere sulla nostra salute quel certo tipo di inquinante rispetto a ciò che prima c'era quindi mantenere una ventilazione dell'aria quindi una movimentazione dell'aria abbassare l'umidità sì ma diluire tutti gli inquinanti e oggi il sistema di elezione è la VMC oltre questo anche l'aspirazione dell'aria centralizzata o decentralizzata ma la VMC è l'elemento chiave a questa si possono aggiungere sistemi di filtrazione purificazione eccetera ma senza VMC la nostra salute può essere a rischio è l'unico sistema che consente oggi scientificamente parlando di darci salubrità all'edificio e maggiore sicurezza per la nostra salute grazie grazie mille professore insomma ha fatto un ottimo intervento ci sono diverse domande gliele condivido una che è quella di Nicola che dice mi può spiegare meglio cosa intende quando dice la plastica usurata sprigiona cosa ha scritto Nicola inoltre le chiedo se una bottiglia in plastica è esposta al sole non riescono a capire bene esatto spiego in intersintesi allora se noi immaginiamo un mobile e un arredo piuttosto che un pavimento che contiene plastica o comunque materiali plastici camminandoci muovendo sedie muovendo tavoli i bambini che giocano per terra creano un'usura proprio un'usura del materiale questa usura genera delle particelle le qui più fini o perché vengono rialzate magari usando un aspirapolvere oppure camminando oppure con un colpo di vento o per altri motivi entrano in atmosfera anche indoor e noi le possiamo respirare gli iftalati sono plastificanti quindi sono usati in quasi tutti i tipi di plastica sono normati ma solo in minima parte e il loro effetto negativo è purtroppo importante come dicevo dal punto di vista invece di tipo alimentare quindi non di aria è ovvio che se noi teniamo della plastica esposta alla luce del sole ma anche semplicemente se noi utilizziamo una posata di plastica mentre stiamo cucinando la portiamo a una certa temperatura piuttosto che inseriamo del cibo caldo o acido o grasso all'interno di un contenitore di plastica questo libera delle sostanze questi iftalati all'interno dell'alimento noi lo mangiamo e li assorriamo a tal proposito Andrea chiede quando è che una bottiglia di plastica emette iftalati quando ma allora dalle bottiglie di plastica noi prendiamo due tipi di plastica prendiamo delle microplastiche che voglio dire magari non riusciamo a vedere ma che si liberano anche solamente aprendo e vedendo un tappo e quindi sono proprio delle bricioline di plastica che possono cadere all'interno del liquido dall'altro lato invece è il liquido contenuto che in certe condizioni può diciamo fare propri questi iftalati a queste sostanze che compongono la plastica quindi luce solare calore ripeto se il liquido all'interno è particolarmente grasso quindi non so olio per esempio olio trattiene più facilmente queste sostanze piuttosto che acido ma l'acqua nel caso dell'acqua ovviamente è calore esposizione a luce solare e non rispetto delle norme l'ultima domanda è il monitoraggio degli inquinanti in casa è un sistema accessibile economicamente a molti o a pochi oggi è un sistema assolutamente accessibile abbiamo dei sistemi per monitoraggio che siano monoparametrici o pluriparametrici validati dalla scienza quindi significa messi in parallelo con strumentazione scientifica che ne valida la loro capacità e calibrazione possiamo fare dare una cifra stiamo sotto i 200 euro ah però quindi secondo me accessibile pochi anni fa per l'utente finale ovviamente pochi anni fa eravamo a cifre molto più alte ma c'è da dire che a livello worldwide anche diciamo i componenti di questi sistemi i prezzi sono molto scesi per fare un esempio il migliore sensore di CO2 che va poi inserito all'interno della sua scatoletta e via dicendo costava l'anno scorso 150 euro se ne compravo uno quest'anno se ne compro uno costa 30 euro quindi c'è il mercato che cresce e ovviamente un costo alla produzione che si apparsa certo che cresce la domanda bene professore grazie mille la lascio qui sempre in in silenzio e magari se ha voglia di intervenire eventualmente appunto può comunicarmelo aspetto Andrea Mantovani eccoci buongiorno buon pomeriggio Andrea adesso cerchiamo di capire come prevenire le patologie edilizie quindi come andare a intervenire su quelle che sono le prestazioni energetiche degli edifici chiaramente parlando ancora di ventilazione meccanica controllata quindi Andrea ti faccio condividere la presentazione come sempre i partecipanti se ci sono domande mi raccomando potete scriverle poi cerchiamo di capire l'unica cosa che appunto scrivendo uno dopo l'altro ogni tanto mi perdo un po' e quindi faccio fatica a leggere quindi magari abbiate un pochino di pazienza siamo a 596 partecipanti quindi siamo tantissimi vi aggiungo e vi ricordo ancora che abbiamo pubblicato i sondaggi nella sezione sondaggi quindi vi chiediamo come sempre un contributo che è molto importante sia per noi che per il partner tecnico perfetto ci siamo buongiorno a tutti come Caterina sono Andrea Mantovani io oggi rappresento anche l'associazione italiana di termografia e diagnosi monitoraggio della condizione è un'associazione italiana che si occupa appunto di termografia e di tutti quelli che sono gli elementi e gli strumenti di monitoraggio e le tecnologie per il monitoraggio degli edifici e delle attività è un'associazione che raccoglie appunto i tecnici addetti a questo tipo di tecnologia e tutti quelli che ne sono interessati io sono un tecnico che si occupa di edilizia è un geometra fondamentalmente appassionato poi alla diagnostica negli immobili e all'efficienza energetica per parlare oggi di termografia infrarosso di ventilazione meccanica controllata legata anche alla termografia infrarosso abbiamo l'opportunità appunto di andare a raccontare quelli che sono i benefici nell'utilizzo della ventilazione meccanica in un progetto di riqualificazione energetica sappiamo benissimo che adesso molti tecnici penso appunto che la platea di oggi sia principalmente formata da tecnici molti dei tecnici sono impegnati nella progettazione di interventi di riqualificazione energetica visto i bonus esistenti e vista una maggiore sensibilità che ci sta muovendo verso questi temi la ventilazione meccanica controllata all'interno del progetto energetico comincia ad entrare in scena più di prima nel senso che prima l'abitudine era di utilizzarla principalmente sugli edifici nuovi case passive case certificate casa clima case progettate appunto come si deve e in alcuni interventi di riqualificazione energetica poi recentemente si utilizzasse si cominciava a utilizzare per risolvere problemi di muffe di condensa e così via adesso si comincia a parlarne di più per cui è importante andare a capire che benefici ci può portare all'interno di un progetto l'influenza che ha la ventilazione meccanica sul progetto sono principalmente questi la riduzione delle dispersioni per la ventilazione appunto la ventilazione continua attraverso un sistema meccanico ci permette di ridurre le ventilazioni quelle date con l'apertura delle finestre l'armonizzazione delle temperature interne le temperature interne possono essere in alcuni casi in alcuni edifici anche non correttamente distribuite a causa magari di non corretto funzionamento dell'impianto anche solo per un irraggiamento solare che può colpire solo una parte della casa per questo motivo possono esserci zone più calde zone più fredde che possono dare problemi di disconforto la ventilazione meccanica dà anche questo beneficio che sappiamo essere molto importante negli edifici dove l'efficienza energetica è elevata e i consumi bassi appunto la distribuzione corretta del calore è un beneficio importante migliora ovviamente la qualità dell'aria tema di cui ha parlato molto il professor Miani prima è appunto il problema principale degli edifici ad alta efficienza sta diventando anche quello e riduce le patologie edilizie patologie edilizie termine non molto utilizzato ma con questo termine si racchiudono tutte quelle che sono le malattie come chiamiamo noi le malattie che l'edificio può avere che possono anche essere patologie edilizie cioè dell'edificio ma che possono anche poi portare a noi umani delle malattie o delle patologie di vario genere ma questo lo vedremo più avanti parlando sempre di bilancio energetico dell'edificio sappiamo bene che ci sono vari fattori che entrano in ballo entrano in gioco quando si fa un progetto energetico scusate scappato una slide sono le dispersioni principalmente per conduzione le dispersioni per conduzione per conduzione sono quelle che avvengono attraverso una certa stratigrafia dell'imbolucro quindi il tetto la parete esterna il pavimento gli infissi e poi ci sono quelle dispersioni che sono date da areazione per ventilazione perché noi cambiamo l'aria oppure per flussi d'aria incontrollati che più comunemente chiamiamo spifferi tutti questi elementi sono quelli che compongono qui vado veloce perché è solo poi per arrivare alla questione della ventilazione voglio solo ricordare con queste due slide che il bilancio energetico dell'edificio anche se sicuramente collegati sono molti progettisti termotecnici o consulenti energetici però il bilancio energetico dell'edificio è composto da questi fattori quindi tutti quelli che vediamo azzurri le triple flecce sono le le dispersioni per trasmissione attraverso l'involucro questi baffi che ci sono intorno alle finestre sono le dispersioni per ventilazione se voi guardate la formula sotto guacca il bilancio energetico dell'edificio è dato alla somma tra le dispersioni per trasmissione più quelle per ventilazione a cui sottraggo quindi alle dispersioni che ho sottraggo gli apporti che sono gratuiti cioè calore prodotto internamente dal locale e calore che arriva dall'esterno ad esempio per il raggiamento per il sole che scalda la casa poi c'è appunto il fattore di utilizzo in mezzo ma tutto questo ci dà un valore che è quello del bilancio energetico dell'edificio che è alla base del nostro progetto quel QV è il valore di perdita per ventilazione cioè quello che io devo calcolare secondo la norma UNITS 11301 come ricambio d'aria è qui che la ventilazione meccanica influisce sul bilancio energetico dell'edificio qua riporto riprendo la stessa tabellina di prima dove si parlava di quali dove si elencavano quelli che erano i maggiori punti di dispersione dell'edificio e ho ipotizzato una una casistica standard che abbiamo nei progetti di riqualificazione energetica spinta cioè quali sono le dispersioni che vengono ridotte principalmente vediamo che vengono ridotte le dispersioni dalle coperture quando vado a coibentarle almeno del 70% la copertura o l'ultimo solaio piano è sempre l'elemento che disperde di più perché è solitamente il più esteso e se è una copertura con tetto caldo la dispersione comunque è elevata sempre è maggiormente esposto le pareti esterne con la realizzazione dei cappotti può avere anche una dispersione ridotta dell'80% i pavimenti del 40% ipotizzando pavimenti contro terra i serramenti anche gli infissi del 60% un valore che non sappiamo mai o comunque che poche volte viene valutato è quello della areazione per ventilazione dell'edificio quindi è la reazione che io faccio aprendo le finestre e poi una cosa che non so quali sono i flussi d'aria incontrollata dagli spifferi in realtà ci sono dei metodi per capire quanta aria viene dispersa attraverso gli spifferi di un edificio ma diciamo che quando andiamo a prendere un edificio esistente questo non è il nostro problema principale c'è una norma uni la 12207 che ci permette di andare a vedere in base alla permeabilità ad esempio dei serramenti e andare a capire quale può essere la dispersione per gli spifferi comunque questi fattori sono quelli solitamente non misurati cioè il risparmio energetico dovuto alla ventilazione o meglio in un progetto vengono misurati ma se non si parla di ventilazione nessuno entra in merito a questo ma noi sappiamo che fanno una grossa differenza e qui vi faccio vedere una semplicissima tabella abbastanza riassuntiva di quello che è il bilancio energetico di un edificio questa è la somma delle potenze per disperse per trasmissione e ventilazione la potenza dispersa per chi non è della materia è quella potenza massima che è necessaria a un edificio per essere riscaldato a 20 gradi quando fuori c'è la temperatura minima che ad esempio nella zona principale nord d'Italia può essere in meno 8 meno 10 meno 6 nel centro sud Italia temperature più elevate questo è un esempio fatto noi siamo nel nord d'Italia quindi fatto con meno 8 questa è una casetta monofamiliare e ha 15.000 watt di dispersione dove c'è quel cerchiolino rosso vedete dispersione per trasmissione quindi lo schemino che abbiamo fatto vedere prima le dispersioni attraverso l'involucro quindi muri tetti pavimenti verso terra verso vani non riscaldati o attraverso i serramenti dispersione per trasmissione dei serramenti non per spiffer ventilazione 15.789 la potenza dispersa per ventilazione andando ad applicare le norme esistenti che ci dicono quanto io devo ventilare la casa e tra parentesi aggiungo nessuno di noi lo fa mai in realtà quindi potrebbe essere sensibilmente minore quel numero davanti a questo quadro qui non ci preoccupiamo nel senso che 15.789 la dispersione dell'edificio è molto più basso la ventilazione che io ho andando a aprire le finestre quindi quello non è un grande un grande elemento quando vado a fare una riqualificazione energetica dell'edificio come in questo caso la casa è stata capottata è stata toribentata è stato cambiato l'impianto anche se in questo numero non rientra comunque è una casa in corso di riqualificazione abbiamo ridotto di 5 volte le dispersioni per trasmissione perché abbiamo coibentato il tetto abbiamo coibentato il cappotto cioè le murature con un cappotto abbiamo cambiato i serramenti abbiamo una potenza dispersa per trasmissione che è pressoché uguale alla potenza che viene dispersa per la ventilazione quindi qua ci andiamo a rendere conto che ci andiamo a rendere conto che il sistema di ventilazione può essere importante ovvero le dispersioni che abbiamo dovute alla ventilazione sono quasi uguali a quelle per trasmissione e quindi abbiamo capito che è importante in più nel frattempo in questo edificio in questo esempio specifico abbiamo coibentato l'edificio come ho detto abbiamo inserito del cappotto isolante quindi abbiamo reso la casa meno permeabile al vapore acqueo abbiamo messo i serramenti nuovi quindi l'abbiamo resa più ermetica quindi oltre a essere necessaria la ventilazione per ridurre quel numero residuo di dispersione che ormai è diventato notevole sul bilancio energetico è quasi la metà può essere interessante anche andare a mettere una ventilazione che ci migliori della qualità dell'aria abbiamo visto quindi velocemente come viene definito il bilancio energetico di un edificio e quale è l'incidenza della reazione della ventilazione ma quando iniziamo un intervento di progettazione solitamente andiamo a fare delle analisi preliminari come ho detto prima io sono geometra rappresento anche la situazione di termografia come geometra i geometri finché da quando esistono hanno sempre misurato e noi oggi misuriamo tutte quelle che sono le caratteristiche dell'edificio quindi dall'involucro alle caratteristiche dell'involucro le strutture interne verifichiamo gli impianti la tenuta all'aria e andiamo a caccia di ponti termici tutti questi elementi li ho voluti riportare perché sono quelli che ci permettono di andare a fare un bilancio energetico andare a fare un calcolo migliore appunto del bilancio energetico dell'edificio in una progettazione tutti questi elementi possono essere interessanti farò una breve carrellata di quelli che sono i sistemi di opportunità soprattutto per arrivare a farvi vedere che le analisi preliminari che si possono fare sull'edificio possono essere molto utili per andare a individuare quelle casistiche in cui la ventilazione può essere necessaria e può risolvere molti problemi e lo posso scoprire già in fase preliminare quindi appunto l'ho già detto vengono eseguite per analizzare le prestazioni energetiche ma ci permettono anche di scoprire esistenti problemi o l'edificio che ne è predisposto queste sono termografie standard quella di destra è una immagine abbastanza conosciuta cioè la classica immagine in cui si vedono i ponti termici pilastri le travi quella a sinistra invece è una termografia reattiva dove si vedono le murature già più in dettaglio riesco a vedere la parte più viola che è pietra la parte più scura che invece sono mattoni sono quattro murature diverse quindi già lì posso andare a capire molte cose queste sono termografie interne fatte nell'edificio ci fosse umidità o altre macchie in questo in questo immobile le avremmo le avremmo già viste con la termografia questo invece sono problemi impiantistici a destra un termosicone non funziona a sinistra nessun problema sono impianti degli anni 50 facendo un rilievo di questo tipo che ci consente anche di andare a capire se ci sono passaggi d'aria particolari attraverso l'involucro questa è un'immagine di un blower door test il blower door test non mi dilungo sulla spiegazione che cos'è è un test che permette di comprendere se c'è una se ci sono spifferi o passaggi d'aria incontrollati nell'edificio solitamente viene fatto per gli edifici che sono certificati casa clima passiva perché la normativa li richiede io dico che sarebbe opportuno ormai prevederlo in tutti gli edifici perché ci permette di capire se ci sono delle situazioni che non conosciamo tipo questa un enorme qui a sinistra vedete un enorme passaggio d'aria attraverso un davanzale se lì dentro passa aria calda e umida e nell'impianto non c'è la ventilazione nella casa non c'è l'impianto di ventilazione o ventilazioni puntuali probabilmente sotto quel davanzale ci sarà muffa e si formeranno marciscenze nella struttura immaginiamoci se quella casa fosse di legno altri esempi di monitoraggi su edifici esistenti questo è una stanza dove si vede la linea nera a sinistra un punto molto molto freddo poi lo vedremo dopo perché l'ho usato come esempio quando si parla di correzioni dei ponti termici un punto molto freddo dove quasi certamente si forma muffa infatti questo era uno di quei casi a destra invece vediamo un ponte termico molto elevato se io vedo delle situazioni così già quando sono in progettazione so bene che se non li correggo quei punti lì se io non riesco a quei bentalli per qualsiasi motivo adesso in una foto di destra ci sono delle finestre per cui probabilmente non sono a confine ma se io fossi a confine non mi lasciano fare il cappotto e qualcuno pensa di fare l'insufflaggio dentro la cassa vuota di quella muratura io devo già prepararmi a problemi eventualmente di condense muffa almeno in una parte degli appartamenti se stiamo parlando di un condominio semplicemente per un calcolo delle probabilità e quindi la ventilazione può aiutare quindi l'individuazione dei punti delicati predisposta a insorgenza di patologie edilizie problematiche già esistenti danno l'opportunità di prevenire problemi futuri quello che vi dicevo adesso appunto se io già vedo lì c'è una situazione particolare posso andare a pensare prima cosa posso fare per evitare problemi ovviamente se io scopro patologie edilizie prima posso andare anche a capire qual è la correlazione tra loro le patologie edilizie che possiamo scoprire già in fase preliminare che possiamo andare anche a incontrare successivamente agli interventi perché purtroppo nei tecnici o veniamo chiamati magari proprio per un lavoro che abbiamo fatto noi qualche dettaglio non studiato bene o per chi fa il CTU o il CTP appunto per delle cause per dei conteziosi ci troviamo di fronte spesso a diverse patologie e non sempre è facile individuarle tutte queste patologie partiamo dalla più famosa che è l'umidità del risalito soprattutto negli antichi borghi nei paesi o nelle case anche nuove mal costruite tutte queste patologie a partire appunto da questa sono patologie che si collegano l'una all'altra che possono avere un impatto notevole per collegarmi a quello che dicevano prima i precedenti relatori alla qualità dell'aria interna questa è un'umidità di risalita standard questa fatta fotografata sul muro esterno sappiamo bene che l'umidità che risale attraverso gli elementi costruttivi esce in superficie i sali cristallizzano e fanno saltare la pittura prima e poi eventualmente anche l'intonico a destra un sistema di misurazione molto semplice la termografia può anche far vedere quali sono quali sono le aree soggette umidità di risalita ma poi una misurazione attenta del grado di umidità può aiutare altri problemi interni che ci possono essere e che creano diversi tipi di patologie questo è proprio quello più più spinto la condensa sui vetri questa è una situazione in cui c'è una umidità elevata interna ma anche un vetro poco prestante infatti vediamo si intravede un giunto color alluminio perché è un giunto vecchio non è un giunto polimerico come quelli che si utilizzano adesso che ci permette di non avere questi problemi ovviamente incide molto anche l'umidità interna che abbiamo e lo vedremo dopo io ho visto molti 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 serramenti con ormai non solo più muffa delle sorte delle specie di alghe una puzza anche interna al profilo dietro i fermavetri probabilmente sono pieni di funghi e di muffe ho visto delle situazioni particolari un altro tipo di patologia che è facilmente discontrabile è questa la foto di sinistra rappresenta una muratura perimetrale che è stata coibentata dall'interno con della lana di roccia sopra lì c'era un cartongesso cosa succede? succede che il vapore acqua interno se è elevato attraversa la stratigrafia e se l'umidità è ancora molta anche all'interno del muro nel momento in cui trova la parete fredda insomma per tutti i tecnici le verifiche di glaser le conosciamo ma ci sono altre verifiche più dettagliate che si possono fare con altri software quando l'umidità trova appunto la parte fredda del muro condensa e fa marcire l'isolamento interno questo può anche essere aggravato da dei passaggi d'aria che ci possono essere ad esempio dietro questo muro se io avessi un corrugato di un impianto che passa lì dietro e che va fuori l'aria calda passa all'interno del tubo fa quello che noi chiamiamo in gergo bypass termico e fa marcire maggiormente l'immagine a destra invece è un altro caso in cui all'interno della casa vi era una qualità dell'aria pessima carica di umidità la casa è nuova non hanno messo le zanzariere ma al posto delle zanzariere nel cassonetto coibentato hanno messo questo tappo per chiudere lo spazio vuoto c'è un passaggio d'aria internamente prima vi ho fatto vedere il Browardor test la prova di tenuta all'aria che ci permette di scoprire eventuali spifferi che non avevamo previsto qua non è stato fatto evidentemente o meglio lo abbiamo fatto noi dopo e il vapore acqueo passava attraverso cioè dietro il serramento dove già cominciava a produrre acqua e arrivava il cassonetto e gocciolava fuori esternamente e questo è il caso classico la muffa in casa la muffa in casa che è causata da un sacco di di cause ovviamente principalmente è un rapporto tra il fattore involucro quindi le condizioni dell'involucro e la situazione che ha l'involucro quindi isolato non isolato presenza di ponti termici isolato isolamento disgiunto o semplicemente murature sottili e quindi con una trasmittanza molto molto elevata e il fattore utente cioè come viene utilizzato questo immobile in questi edifici capite che diventa veramente un problema di salubrità viverci chi vive in una casa di questo tipo quella foto a destra vedete sullo sfondo sfocato si è al soffitto con le murature completamente piene di muffa lì dentro avevamo il 77% di umidità questo tipo di questo tipo di condizioni interne portano spesso a cose particolari tipo colatura sull'illuminazione esterna dell'edificio la casa diventa praticamente una serra e credete che anche se noi facciamo questo mestiere quindi sicuramente più di altri vedono casi di questo tipo le casistiche sono molto 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 elevate spesso magari qualcuno ne parla ma la muffa c'è veramente in tante case magari non in tutte c'è la la collatura che vedete in questo posto ma la muffa c'è in molti molti casi tutte queste patologie e le riscorro brevemente sono situazioni che possono anche collaborare diciamo così una con l'altra immaginiamo una casa dove all'interno ha umidità di risalita l'umidità di risalita rilascia acqua e vapore in ambiente quindi andrà a aumentare l'umidità che abbiamo internamente nella casa contemporaneamente abbiamo anche abbiamo anche dei punti freddi e una produzione di acqua interna cioè di vapore interna per via dell'utenza e aumento quindi maggiormente il rischio di muffe così facendo aumento anche il vapore e le particelle in sospensione perché ricordiamoci che poi il professor Miani sicuramente può dire se è corretto o no quello che sto dicendo ricordiamoci che le particelle in sospensione di vapore e acque possono trasportare con loro virus batteri e altre sostanze che possono danneggiare gli utenti grazie professor quando io entro nelle case sento quell'odore di muffa qualcuno scherza dice che ho i sensori già nel naso e non sono nella valigia delle volte io ho una sensazione di fastidio la gola perché in sospensione c'è veramente quello che vedete attaccato a questo muro inutile dirvi che in tutti questi sistemi la ventilazione meccanica può aiutare ma siccome siamo tecnici e siamo progettisti il tentativo che si fa spesso è quello di anche perché è doveroso dal punto di vista del risparmio energetico è quello di andare a risolvere il problema di ponti termici o di situazioni di superficie di involucri delicati ad esempio se abbiamo una superficie molto fredda una condensa superficiale una muffa o la formazione di condensi intestiziali sappiamo che andando a mettere i cappotti e lavorando bene il problema di quella parete lo risolviamo poi salvo poi abbiamo risolto il fattore involucro ma il fattore utente non dipende da noi quindi quell'aspetto è ancora un'altra cosa per quanto riguarda il fattore involucro vi faccio vedere un esempio di quello che solitamente ciò che si fa si va a studiare il caso specifico ad esempio in questo caso in questo caso abbiamo avuto una chiamata perché c'erano delle muffe delle condense in questo edificio un edificio nuovo che era stato realizzato in questo modo come vediamo una trave il rettangolo che vedete sotto la freccia rossa è una trave di banchina erano stati usati dei solai prefabbricati con i blocchi in polistirolo in mezzo un cappotto esterno dove vedete la freccia blu tuttavia la presenza di quel trave rettangolare sotto la freccia rossa messo in collegamento con il muro che la parte sotto portava ad avere un punto freddo proprio in quello spigolo e di conseguenza la condensa la muffa in questo caso andando a intervenire sul sul solaio abbiamo aggiunto dove vedete la freccia rossa vedete uno strato in più di prima abbiamo aggiunto uno strato isolante e abbiamo effettivamente risolto il problema del del ponte termico quindi abbiamo innalzato la temperatura in quel punto questo è un approccio che si può utilizzare per risolvere il fattore involucro ma purtroppo spesso questo non è sufficiente perché io posso andare a risolvere quasi tutti i punti termici ad esempio io sono molto realista su questo sappiamo che negli edifici esistenti non si può sempre andare a risolvere tutti i punti termici per cui il il fattore involucro non riesco sempre a risolverlo ma quando ci riesco comunque esiste sempre il fattore utente che è quello che fa la differenza in quei casi esistono dei metodi per misurare non tanto le le caratteristiche cioè la qualità dell'aria interna ma le condizioni principalmente di temperatura e umidità come con questo una piccola chiavetta usb che è un data logger che noi lasciamo a casa dei clienti lasciamo posizionata nell'angolo dove ci sono le problematiche nella stanza nel soggiorno per andare a capire cosa succede e possiamo addirittura tracciare come si può muovere il vapore all'interno dell'edificio quindi qual è la fonte vediamo ad esempio in questo monitoraggio ad esempio che è riportato lì avevamo l'umidità la linea gialla l'umidità relativa che superava i 70 arrivava al 75% esistono altri metodi per andare a comprendere qual è il fattore utente e quali possono essere i problemi causati dal fattore utente esistono degli altri sistemi di monitoraggio multiparametro che ci danno addirittura altre caratteristiche visto che prima è stata fatta una domanda si esistono appunto come ha detto il professor Miani dei sistemi abbastanza economici sicuramente non precisi come quelli più professionali che però danno un'idea questo è un grafico estratto da un strumento multiparametro insomma ci dà un'oscillazione della CO2 noi qua l'abbiamo proprio fatto per andare a capire cosa succedeva dentro quella casa chi faceva umidità e quando e vediamo che veniva arieggiato in un certo punto della giornata l'edificio e quindi calavano tutti i dati dove i grafici vanno sulla puntina e sulla zona verde vuol dire che in questo caso la CO2 CO2 è altro elemento che ci dà una perfetta misura della qualità perfetta insomma un modo per comprendere la qualità dell'aria che abbiamo in un edificio perché se la CO2 è elevata non c'è reazione e sicuramente ci possono essere anche un sacco di altri fattori negativi tra cui la concentrazione anche di virus e batteri torniamo indietro ecco l'umidità in questo caso vediamo che è arrivata fino a 68 ci dicono le zone gialle e i componenti organici volatili altro sistema di misurazione in realtà i sistemi più economici misurano i TVOC cioè il totale di tutti i VOC degli elementi organici volatili che sono principalmente in un edificio emessi dalla cottura di cibi dalla pulizia e da altri materiali e poi il monitoraggio del Radon che in questo caso con questo strumento non ha potuto darci dei dati idoni perché il monitoraggio del Radon è un monitoraggio che l'ha fatto più a lungo termine però vi assicuro che anche con sistemi abbastanza economici ho avuto modo di vedere valori di Bequare che è l'unità di misura del Radon molto elevati anche di 700 800 stante il fatto che io risiedo vivo in una zona dove c'è alta concentrazione sarà sempre in aumento soprattutto perché vengono sigillati gli edifici insomma cambiando i serramenti coibentandoli il Radon è destinato a salire se non ci sono opportune misure di sigillatura dell'edificio e anche di mitigazione ok cosa succede quindi nel momento in cui io ho tutte quelle cose che ho citato prima ho visto un edificio che può avere con il monitoraggio iniziale che faccio sull'edificio per andare a progettare la riqualificazione riesco a vedere quali possono essere le patologie nascoste dell'edificio quali possono essere i punti deboli poi posso andare ad individuarle e poi negli edifici esistenti posso andare anche a capire quali sono i fattori dell'involucro e i fattori utente ma noi siamo tecnici penso appunto principalmente architetti ingegneri geometri oggi collegati e noi abbiamo un interesse importante che è quello di dare salubrità alla vita dei nostri clienti evitare che vivano in case ammalate ed evitare soprattutto perdonatemi i contenziosi che sono comunque sempre l'incubo di tutti i professionisti perché soprattutto quando si va a toccare temi così specifici e così particolari c'è sempre un problema di questo tipo quindi io ho voluto riportare queste tre cose principali malattie quindi umane intendo patologie umane patologie edilizie e contenziosi se vado a riqualificare ci avviciniamo un po' di più al tema gettonato di questi tempi dove io vedo la UMC come elemento in indissolubile che il tema è quello del recupero degli edifici esistenti della riqualificazione energetica e nello specifico del Santissimo 110 su un edificio di questo tipo che è un condominio piccolo di una città di provincia dove ci sono 40 unità immobiliari se vado a fare un intervento di riqualificazione energetica difficilmente riesco a risolvere tutti i ponti termici quindi il corretto approccio del tecnico deve essere quello di mettere subito a corrente l'amministratore il cliente se parliamo di una casa singola i condomini se va in assemblea di quelli che sono questi rischi i rischi sulla qualità dell'aria e solitamente mi permetto di fare questa parte un po' usarla come scambio non come insegnamento o suggerimento ma come scambio di detratecnici ecco invito qualcuno a dire la sua nella chat quando si va in assemblea una domanda che può essere valida può essere qualcuno si è mai trovato con problemi di muffa in casa vi assicuro che almeno su un condominio di 20 persone almeno 2 o 3 ce l'hanno oggi con le case non coibentate figuriamoci cosa potrebbe succedere quando andiamo a sigillare quelle case con i serramenti quando andiamo a mettergli i cappotti termici succede quello che succede già adesso ma in maniera sproporzionata e in maniera molto più elevata c'è un sacco di richieste di sopralluoghi un sacco di richieste di anche rimborso danni come quelle che succedono abitualmente quindi con questa parte che ho intitolato il corretto approccio del tecnico voglio appunto condividere la mia esperienza mi sto rendendo conto che ci sono già molti moltissimi casi di problemi di qualità dell'aria interna perché quando noi veniamo chiamati vi faccio un esempio questo è un condominio dove siamo stati chiamati perché secondo il condomino in quella parete c'era un tubo che perdeva perché anzi due condomini gli ultimi due piani perché c'era un tubo che perdeva e quindi gli aveva bagnato la camera da letto il muro della camera da letto camera da letto che stiamo parlando di muffe qualità dell'aria è sempre la parte più delicata perché viene arieggiata poco perché si concentra molto umidità prodotta da chi dorme insomma ricordiamoci che ognuno di noi produce qualche decina di grammi all'ora di acqua anche quando dorme siamo stati chiamati perché c'era un tubo nascosto secondo i due condomini in realtà abbiamo trovato una situazione di questo tipo abbiamo trovato addirittura in un appartamento una controparete interna fatta solo sulla parte centrale non sulla parte d'angolo per cui l'umidità nell'angolo era bassissima l'umidità la temperatura interna un po' più bassa di quello che dovrebbe essere quindi l'umidità che veniva dalle altre stanze andava a concentrarsi in quella stanza lì e c'era appunto su una temperatura ad angolo di 6,9 gradi sappiamo che non serve tantissima umidità per andare per andare a formare condensa e aggiungo che con il monitoraggio di più elementi in quell'edificio abbiamo scoperto che i bambini che dormivano nella camera di fianco che anche essa aveva qualche problema di umidità dormivano con una CO2 elevatissima con dei VOC elevatissimi e quindi esistevano anche dei problemi di qualità dell'aria insomma non solo muffa e umidità ma proprio anche altri elementi inquinanti all'interno delle volte appunto forse ai bambini gli conveniva farli giocare sul balcone a questo condomino anche in pieno inverno che avrebbero respirato sicuramente aria più sana essendo sotto le montagne questo per dirvi appunto che già adesso succedono queste ci sono queste situazioni per cui andiamo a domandarci cosa succederà quando andremo a coibentare tutti gli immobili ecco il monitoraggio di queste stanze ecco non umidità elevatissima come dicevo arrivava al 70% comunque già elevata ma non incontenibile sicuramente appunto risolvibile come è stato fatto con un sistema di ventilazione meccanica puntuale se è risolto il problema ma abbiamo un problema che non era solo quello dell'involucro abbiamo il fattore utente quindi quello che io dico noi tecnici che ci portiamo a casa di interventi di qualificazione energetica anche interessanti dobbiamo porci una condizione di avere tutto il monitoraggio delle situazioni che ci sono e andare a imporre io dico imporre senza limiti la ventilazione meccanica negli edifici perché potremmo avere un sacco di questi problemi qualcuno penserà beh ma se io faccio il cappotto continuo dappertutto beh evidentemente chi è partito veramente con progetti di qualificazione si rende conto che spesso nei balconi non riesco a fare completamente risvolto nella zona pavimento ci sono alcuni particolari che mi impediscono di coprire correttamente il ponte termico inevitabilmente ci sono dei problemi e quindi quella sarà sicuramente una condizione di rischio di muffa e di conseguenza di qualità dell'aria interna mi è stato chiesto mi è stato chiesto di fare cenno a questa bella cosa qui che ho riportato un po' forse in maniera troppo estesa non so se è leggibile nei monitor dei pc questa non so penso la sorpresa che Enea il regalo tra virgolette che Enea ha fatto a chi si occupa di ventilazione meccanica o chi ci crede perché finalmente hanno chiarito questo aspetto che è quello della possibilità o meno di inserire la ventilazione meccanica nei progetti del 110% Andrea siamo in chiusura 5 minuti neanche ci siamo anche meno così perché posso magari fare due parole anche con Roberto ok quello che ci dice l'ultima faldenea che è uscita circa un mese fa ci dice che possiamo utilizzare in modo chiaro possiamo utilizzare la ventilazione meccanica nei progetti di riqualificazione energetica che vanno al 110% però tra tutte queste cose ci dice anche una serie di verifiche che dobbiamo fare insomma dobbiamo verificare che quel ponte termico sia assolutamente irrisolvibile come quello che ho citato prima in un condominio dove ecco questo è un esempio ci sono i fattori di temperatura da verificare i tecnici lo sanno io con degli elementi con dei software FEM gli elementi finiti riesco ad andare a verificare quelli che sono i punti con la condensa quindi devo dimostrare in una relazione che poi va legata alle asseverazioni che io non ho modo di correggere quel ponte termico e si formeranno muffe nonostante ci sia un ricambio d'aria previsto dalle norme e devo andare a verificare in base alla concentrazione di vapore quelli che sono quelli che sono i mesi in cui ho dei problemi di muffe o di condense in questo modo andando a modificare la concentrazione di classe di vapore e quindi dimostro che con la ventilazione meccanica migliore non avrò più muffe e condense questo mi dice l'Enea quindi già questo è un passaggio non facile la sto accorciando anche a mio favore perché so che svilupperebbe molte domande ma è una verifica abbastanza seria e complicata e poi devo dimostrare che tutti quei ponti termici che non ho potuto correggere se li avessi corretti mi portavano il beneficio energetico che mi porta adesso la VMC che ho inserito rivediamo e chiudo la tabella che avevamo visto prima dove ci sono le dispersioni questo è un edificio invece che coibentato va a disperdere 8000 watt e per ventilazione ne disperde 6000 io dimostro invece che arrivo non disperdene più 6000 per ventilazione ma 1800 e quella differenza che ho tra la ventilazione con ventilazione e senza ventilazione deve essere maggiore di quella che avevo del risparmio che avevo se andavo a correggere tutti i punti termici questa è la mia ultima slide e quindi io dico VMC è possibile utilizzarla nel massimale del cappotto quei 50.000 o 40.000 o 30.000 che ci sono indicate nella normativa con dimostrazione dei requisiti quindi quelle verifiche complicate che io ho riassunto perché non era tema della giornata ma sono importanti la VMC nel massimale dell'impianto al 30.000 20.000 15.000 euro dipende da quante sono in tema immobiliare solo con sistemi di riscaldamento aria aria cioè con la ventilazione meccanica con il riscaldamento e la pompa di calore io dico con la ventilazione meccanica per il 110 attenzione anche alla protezione acustica perché è una verifica che va fatta e l'efficienza del recuperatore per cui chiedere sempre i dati e soprattutto attenzione a quelli che sono gli utenti contrari nei condomini farsi firmare delle liberatorie perché potrà essere un problema ogni domani e concludo e vi ringrazio grazie mille Andrea un intervento molto interessante se posso vorrei però appunto insomma condividere un paio di domande che sono arrivate la prima è quella di Nicola in realtà ne avevamo un po' accennato anche prima ma magari possiamo riprendere meglio il concetto lui chiede considerato una termografia c'è un modo per valutare se siamo in presenza di infiltrazioni d'aria o mancanza di isolamento allora con la termografia riusciamo a capire dove c'è isolamento e dove non c'è con la semplice termografia quindi riusciamo a capire su una parete qual è la zona isolata qual è la zona non isolata riusciamo a capirlo dalle temperature superficiali riusciamo a capire anche se in un muro c'è o meno isolamento con la sola termografia non si riesce a comprendere qual è il grado di isolamento della parete lì c'è un'altra metodologia un'altra tecnologia che è la termoflussimetria e invece le infiltrazioni d'aria vengono verificate con la termografia ma con l'ausilio del blower door test che è appunto uno strumento che mette in sovrappressione o in depressione l'edificio in modo da mettere in evidenza gli spifferi bene e Nicola chiede ancora la muffa per proliferare necessità di quale temperatura e umidità allora la muffa per essere precisi siccome ne esistono di varie di varie tipologie ma penso qualche migliaio la percentuale di umidità può essere variabile comunque in ambienti anche con alcune muffe anche già con il 55% 60% di umidità possono formarsi se non è approfondito vado avanti Franco chiede dice il cappotto esterno risolve i problemi dei punti termici considerato che il materiale isolante necessita di rimanere asciutto deve essere protetto esternamente da filtrazioni di umidità ma ciò ha creato la tenuta di umidità all'interno del locale? allora i cappotti vengono completati con un rasante che ovviamente ha una tenuta non tanto all'umidità quanto all'acqua battente quindi alla pioggia avere una tenuta all'acqua non vuol dire che quello strato è completamente impermeabile perché un minimo di passaggio al vopor d'acqua ce l'ha sicuramente in funzione del materiale che io metto esternamente avrò una maggiore o una minore permeabilità dell'aria attraverso la superficie quindi quello che rispondo all'utente è che sicuramente va valutato lo strato isolante esterno i materiali naturali hanno una maggiore permeabilità al vapore i materiali sintetici meno la superficie esterna comunque esternamente avrà sempre una tenuta all'acqua battente ma può avere in funzione del materiale che si utilizza una maggiore o una minore un maggiore o minore passaggio di umidità attraverso il muro quindi esiste il rischio che si possa accumulare all'interno della muratura dell'umidità interna quindi vanno fatte le verifiche i tecnici devono fare le verifiche quando progettano un muro e appunto andare a capire se in quell'edificio può esserci quel rischio eventualmente inserendo una ventilazione vi faccio una domanda in realtà ne ho due e poi dopo concludiamo la prima domanda è vi ste considerato quanto è diciamo diffuso il problema dell'umidità e il problema quindi delle muffe eccetera cioè ma manca formazione manca competenza nella progettazione c'è qualcosa che non funziona perché è comunque così uno dei fenomeni che più è evidente in anche edifici più o meno datati in realtà se posso non voglio togliere parole tecnici ma è per fare una chiosa a quello che diceva il geometra Manturani poco fa il punto è questo si è pensato sia a livello storico diciamo anche solo negli anni più recenti non solo edifici antichi di pensare prima a una coibentazione quindi a risparmio energetico cioè a livello proprio di conoscenze tecniche si è arrivati prima a pensare a risparmio energetico problema molto sentito soprattutto nei grandi palazzi nei grandi grattacieli ma anche nelle abitazioni nostre italiane il tema della qualità dell'aria è arrivato dopo e quindi adesso le due cose si devono interfacciare la muffa l'umidità ok ma la muffa in particolare la vera discriminante non è la temperatura al di là delle tipologie di muffa piuttosto che il tasso di umidità è la mancanza di ventilazione e di ariazione nell'ambiente se c'è ariazione e ventilazione nell'ambiente la muffa non si forma a prescindere dall'umidità e dalla temperatura eh sì che tra l'altro poi parlavamo di muffa ma adesso il passaggio successivo forse Roberto ne avevamo già parlato ma non mi ricordo in un'altra occasione io penso alla scuola di mio figlio che d'inverno comunque le classi soprattutto quest'anno in particolare finestra aperta per un'idea di ricambio dell'aria di sostanze quindi in realtà forse è un tema che dovrebbe essere a prescindere dal risparmio energetico di cui chiaramente tanto si parla e tanto si è parlato forse è un tema che bisognerebbe approfondire soprattutto in tutta una serie di strutture magari che insomma ospitano il pubblico mettiamolo così la finestra aperta sicuramente consente il ricambio dell'aria anche se giustamente va a compromettere un po' quelle che sono le temperature interne finché si è a marzo aprile quando le temperature esterne sono gradevoli e il ricambio dell'aria è abbastanza favorevole dal punto di vista delle temperature chiaramente in pieno dicembre o gennaio il cappottino addosso agli insegnanti e agli alunni sicuramente ci sta per cui occorre coniugare tutte e due le cose ecco perché appunto la ventilazione meccanica controllata che consente di non aprire le finestre ma di ricambiare l'aria può creare le condizioni di benessere all'interno degli ambienti confinati ci sono altre due domande un pochino più tecniche ma quello che io volevo chiedere che è il secondo passaggio rispetto a quello che dicevamo prima anche su tutti quei dispositivi per valutare i costi di quel tipo di dispositivi per valutare la solubilità dell'aria io mi chiedo ma il costo di un impianto di ventilazione meccanica controllata è un costo di che dimensioni se posso rispondere non è un costo particolarmente impattante in una costruzione nuova impatta mi correggerà Andrea Mantovani nell'ordine di qualche punto percentuale sul valore dell'immobile nel senso che grosso modo si aggira nell'intorno di qualche migliaio di euro tutto compreso è chiaro che in ristrutturazione dipende se uno vuole fare un impianto di tipo centralizzato in cui occorre andare a intervenire in maniera pesante piuttosto che decentralizzato in cui grosso modo ciascuna unità posizionata in ciascun locale viene a costare nell'ordine dei 500 euro ecco tanto per per dare un ordine di idee quindi bisogna chiamare Andrea per far capire per far valutare l'immobile e poi procedere con l'impianto così giusto a questo punto di Andrea prego sull'intervento di riqualificazione energetica generale di un edificio se si va a mettere l'impianto di ventilazione centralizzata come quella che ha fatto vedere prima l'ingegner Perego che sicuramente è la soluzione più completa nella ristrutturazione nei nuovi edifici io penso che un un impianto posato non superi i 7 8 mila euro massimi per un edificio posato con tutto per un edificio di 150 metri quadri mentre la corretta il corretto dimensionamento di un sistema di ventilazione meccanica puntuale quindi quelle decentralizzate per un edificio non supera per un appartamento non supera i 2.500 euro bisogna mettere più macchine che loro lo sanno meglio di me anche in base alle loro macchine però diciamo che è una spesa abbastanza controllata nel senso dove anche negli interventi del 110% se non si possa accedere al bonus c'è comunque un bonus del 50% che ti permette di avere una spesa limitata se dall'altra parte hai più di 100.000 euro regalati sono molto d'accordo io volevo capire con Cecilia se possiamo mandare il link per scaricare i materiali o se li inviamo a seguire perché secondo me le vostre presentazioni sono state molto interessanti quindi sicuramente qualcuno vorrà tenere gli appunti sotto mano soprattutto per alcuni passaggi li inviamo a seguire perfetto va bene allora nei prossimi giorni quindi riceverete le slide relative ai contenuti di oggi forse ci sono ancora un altro paio di domande ma noi siamo andati oltre il tempo massimo evidentemente perché gli argomenti erano molto interessanti quindi io ringrazio il professor Miani ringrazio Roberto Perego chiaramente e Andrea Mantovani e ringraziamo ovviamente Vortice perché come dicevo all'inizio partner tecnico e quindi ha permesso questa formazione gratuita e tutti i quasi 600 partecipanti di oggi perché insomma c'è stato molto fermamente evidentemente è un tema molto 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 interessante abbiamo concluso so che il professor Miani deve andare quindi grazie mille a tutti buona serata arrivederci grazie grazie di nuovo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti